Esiste tutta una serie di leggi che regolano la facoltà del farmacista di modificare la prescrizione ricevuta dal medico, che in linea di principio dovrebbe essere esaudita esattamente nei termini in cui è scritto. Ma al di là del farmaco equivalente può succedere un'altra condizione. Il medico prescrive un farmaco non a brevetto scaduto, non equivalente, originale, che in quel momento manca, manca nel circuito distributivo, il farmacista non se ne può approvvigionare in nessun modo. In quella data situazione il farmacista informando il paziente che sta operando una sostituzione può procedere a sostituire quel farmaco con uno con le stesse caratteristiche appartenenti alla stessa classe terapeutica nell'interesse prioritario di assicurare al paziente un farmaco efficace per una certa patologia. Ovviamente in questo caso ci si informa il medico, si dice guarda che questo è introvabile, posso col tuo consenso erogare quest'altro e questo vale per qualsiasi farmaco. Per quello che riguarda l'erogazione del farmaco equivalente ovviamente sono nate delle indicazioni normative ad hoc per questa situazione e quindi il farmacista cosa fa nel momento in cui riceve una prescrizione di un farmaco? Indipendentemente se è un originator o un farmaco equivalente, se per quel farmaco è prevista per il paziente una quota da pagare perché non ha il prezzo più basso di quella molecola in quel momento, informa il paziente e gli dice guarda su questo farmaco tu hai da pagare un euro e cinquanta di differenza. Se ritiri questo che è un equivalente e ha la stessa composizione, la stessa forma farmaceutica e quindi ti devi aspettare lo stesso effetto, non avrai da pagare alcuna differenza. La legge obbliga il farmacista a dare questa informazione e a proporre la sostituzione con un farmaco che la normativa assicura essere sostanzialmente identico senza dover affrontare una spesa extra. Questo perché in un elenco anche di 20 farmaci il primo a brevetto scaduto e le sue copie può succedere che esistano delle differenze spesso limitate a pochi centesimi ma a volte anche di parecchi euro, benché si tratti sempre dello stesso principio attivo e della stessa quantità di farmaco in ogni compresse, in ogni unità posologica. Se il farmacista invece riceve una prescrizione per un farmaco a brevetto scaduto per il quale non è prevista una differenza a carico dell'utente, potrebbe capitare che non abbia in farmacia esattamente quel generico perché ripeto ci sono per farmaci di grande diffusione anche 20 farmaci generici che condividono il brevetto scaduto e non è ragionevole pensare che il farmacista in farmacia possa avere 20 copie uguali dello stesso farmaco poi moltiplicato per tutti i farmaci. In questo caso informando il paziente può dire questo farmaco è sostituibile con questo che io ti do perché è esattamente la stessa identica cosa. E' sempre opportuno che informi il paziente, che non crei confusione fra il nome che vedo sulla ricetta e quello che assumo, a volte le differenze possono essere anche il colore della scatola e quindi qualcosa che può trarre l'inganno poi il paziente sul fatto che quello è proprio il farmaco che ha ricevuto. Ovviamente questo diciamo gli è concesso fare proprio in virtù di una normativa specifica che è nata per sostenere la diffusione del farmaco a brevetto scaduto del farmaco equivalente.